Grazie Ma Totti non è più Totti? Non c'è giustamente, non l'altro. Totti è stato che senti la ragazza lì ora, accanto c'è gli rossi. Aspetta domani, sento la prossima. Sento lì che ti ripieni, fai nè. Totti si siede là. Bravo! Totti è stato un po' di tempo. 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 Scusate le firme, dai. Ora il numero di telefon. Adesso lo scriviamo. Ci dobbiamo scrivere? Scusate, scriviamo. Lasci il mio. Lasci il mio. Lasci il mio. Lasciamoci 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 il mio. Vi auguro buona fortuna. Vi aspetta. Aienzi. Non manca il mio. Il mio. Il mio. Lasciamoci il mio. A posto. Tipo piano. Ma ce l'ha fatta il dilengro? Allora. Che lei mi sta in pelle. Si. Perfetto. A posto, questo qua è regolato, è pieno pieno, stai a, a posto, la mia firma, buona fortuna, a posto.